Musica In diretta da Casa Sanremo nello Spazio Book Sprint Edizioni siamo qui con uno dei nostri autori do il benvenuto ad Antonino Mattarella Buon pomeriggio, benvenuto Buon pomeriggio a te, puoi chiamarmi anche Tony Perfetto, allora Tony Pensieri furtivi e frammenti di vita questo è il tuo primo libro? Sì, è un libro, è un manuale è una raccolta di pensieri come dice il titolo una raccolta di pensieri furtivi e frammenti di vita sono dei piccoli frammenti raccolti in un determinato momento della mia vita che volevo mettere su pagina e renderli a disposizione di tutti gli altri La scrittura è solitamente detta come libero scambio che cosa ci ha spinto a scrivere? Qual è il tuo rapporto con la scrittura? Diciamo che io ho sempre scritto nella mia vita scrivevo nei banchi di scuola scrivevo per i miei compagni che mi chiedevano spesso di scrivere una lettera per loro per un avvenimento particolare scrivevo durante il militare ai miei commilitoni che mi chiedevano sempre di scrivergli una lettera per la propria ragazza, la propria moglie io chiedevo due o tre informazioni e dopo mezz'ora venivano a ritirarsi la lettera eri praticamente lo scrivano a disposizione di tutti però non mettevi soltanto la scrittura come una volta mettevi anche la testa, il pensiero, il cuore il cuore, sono tre elementi che insieme riescono a dare ottimi risultati nell'esporre le proprie emozioni agli altri pensieri furtivi, quali sono questi pensieri furtivi? sono tanti e sono momentanei magari, che so, in questo momento non riuscirei più a scrivere qualcosa come qualsiasi scrittore, qualsiasi artista, musicista, compositore ha bisogno dei suoi tempi i tempi sono soggettivi dipende dall'umore che una persona ha dalle persone che gli stanno accanto da una situazione sentimentale da una situazione lavorativa da tutto quello che sta vivendo in quel preciso istante e momento e i frammenti di vita? sono piccoli pezzettini di vita raccolti in queste pagine come nasce poi il momento preciso in cui hai deciso di racchiuderli tutti quindi non tenerli sparsi, questi pensieri e non lasciarli vagare, questi frammenti? se io avessi ascoltato alcuni amici miei diciamo che non sarei andato avanti con il libro perché, sì, mi volevano bene però mi dicevano ma che devi fare non andare avanti scrivi solo per te non tutti gli amici e poi invece io sono stato un pochino testardo e ho cercato di andare oltre ho scritto queste pagine poi ho avuto la possibilità di contattare la vostra casa editrice che mi ha permesso di pubblicare i miei pensieri e i miei frammenti di vita c'è questa bellissima copertina che ritrae una ragazza probabilmente in un vagone di un treno è la mia dolce principessa si chiama Marika mi ricordo quella foto ero sul treno con lei mi ha chiesto di fargli una fotografia io l'ho fatta e poi mi ha inviato un messaggio su whatsapp dicendomi papi scrivimi due paroline su questa foto e io gli ho scritto le parole che vedete un po' lì sulla copertina il mio pensiero vaga oltrepassa quel raggio di sole e si ferma lì ad aspettare ogni gesto ogni momento ogni istante di vero amore come quello tra un padre e una figlia ho interpretato il suo pensiero in quel momento diciamo che in quel giorno non pensavo minimamente che quella fotografia sarebbe diventata la copertina del mio libro l'ho sfruttata così questi sono pensieri che spaziano tra varie tematiche tra vari stati emozionali si parla del silenzio chi non comprende il silenzio difficilmente potrà comprendere il frastuono di un amore questo è un pensiero che ha davvero un suono poetico è molto concentrato dietro un silenzio ci sono tante emozioni tanto dolore tanta felicità tanto desiderio di comunicare ci sono anche delle massime quasi i brutti momenti della tua vita ti portano alla disperazione o alla saggezza a me hanno portato alla saggezza c'è una poesia che vorresti leggere una poesia a cui tieni particolarmente o che in questo momento reputi sia doveroso leggere? sì diciamo che volevo fare riferimento ad una donna della mia città di Mazzara del Vallo che è stata tremendamente uccisa dal proprio marito voglio ricordarla con una poesia che ho scritto diversi mesi fa però adesso diventa attuale ed è un ricordo nei suoi confronti Rosalia Garofalo Rosalia Garofalo Mimosa Calpestata Mimosa Calpestata la vuoi leggere? sì ogni donna merita un fiore non solo giallo non solo rosso ogni giorno già al sorgere abbraccia ogni momento ogni gesto ogni emozione sorprendila sorprenditi divampa ogni piccolo residuo di fuoco non trattenere le tue lacrime ma usale per ammorbidire per smussare le sue giornate nere amala come se fosse sempre la prima volta amala da sempre e per sempre questa donna oggi è stata sepolta nel nostro cimitero comunale ed è il lutto cittadino per la nostra città da una parte sono contento di essere venuto in questo studio dall'altra parte ho questo dolore per questa scomparsa a noi cara purtroppo lei non è l'unica quindi questa Mimosa Calpestata la dedichiamo a tutte le donne che ogni giorno dicevano soffrusi e violenze e che combattono per la propria dignità sì e a parte questo però c'è anche un invito a non ascoltare le voci degli altri a non essere manipolati ce la vuoi leggere io l'ho sfogliata prima e l'ho trovata molto interessante ricordi la pagina perché io lo non ricordo la pagina ma credo che possiamo potremo vederla nell'indice si chiama non ascoltare ed eccola qui la troveremo nel frattempo c'è anche tic tac che è riferita al tempo che passa al tempo che passa un altro concetto molto interessante della psicoanalisi assolutamente come ti sei avvicinato a questo concetto certi concetti arrivano da soli nella vita per esperienza vissuta hai trovata? allora la leggo? leggila non ascoltare non ascoltare chi manipola la tua vita adattandola alla propria chi ostacola i tuoi pensieri rendendoli privi di colore chi dice di amarti ma evita di guardarti negli occhi chi non ha mai versato lacrime chi sente solo con la mente non ascoltare chi non ha mai raccolto un fiore chi rimane abbagliato dai tramonti solo per la luce che riflette sul mare non ascoltare chi vuole essere solo ascoltato e non dà importanza ai tuoi silenzi l'interpreta ha proprio paescimento li usa e li trasforma non ascoltare chi afferma di capire se mentre lo dice l'espressione del suo volto rimane inalterata non ascoltare più il sì per tutta la vita fino a quando a morte non vi separi il piano di Dio così perfetto e ricco di amore l'abbiamo stravolto dando sazietà a chi gioisce delle nostre sconfitte amatevi gli uni con gli altri ma forse abbiamo frainteso cosa volesse dirci l'abbiamo adattato alle nostre necessità ma abbiamo una grande risorsa la quale possiamo attingere ogni quavolta ne vogliamo fare uso batterci il petto una volta due e anche tre e il gioco è fatto addio al rimorso di coscienza l'abbiamo sotterrato calpestato dimenticato non ascoltare più con le orecchie con le orecchie degli altri impara ad ascoltare con le tue ma non sono quelle visibili quelli più o meno grandi quelli ti confondono e ti sviano ascolta con le tue sensazioni recettori a volte della verità e ascolta soprattutto con una voce guida installata dentro questa complessa macchina che è la nostra vita una voce che spesso rifiutiamo di ascoltare perché non ama le cose effimere e prive di significato perenne l'ho scritta per tutti per chi si sente in questa condizione bello le sensazioni come recettori cioè a volte non ci ascoltiamo quindi questo è un invito a non ascoltare certe cose ma ascoltare se stessi assolutamente sì a chi dedichi questa raccolta di pensieri di frammenti di vita l'ho scritto nella prima pagina questa raccolta la dedico a mia figlia Marica a mio figlio Vito e volevo anche ringraziare alcuni amici che mi sono stati vicini in questo periodo della mia vita che mi hanno supportato e che mi hanno dato anche carica se posso citarli assolutamente sono Giussi Salvo Peppe Leo Mario e tanti altri c'è qualcos'altro in cantiere o ti fermerai qui? la mia idea è di scrivere un romanzo solo che per scrivere un romanzo ci vuole molto tempo e come ho detto prima ci sono cose che devono essere scritte nel momento in cui ti arrivano io faccio il cameriere di sala e quindi ho poco tempo per dedicarmi alla scrittura però spero se ti arriverà l'ispirazione la saprai sicuramente cogliere così come hai fatto con questo secondo me e allora il mio augurio è questo che ti possa venire l'ispirazione per continuare a scrivere e magari la prossima volta sarai qui con un romanzo grazie per essere stato con noi ringraziamo Antonino Mattarella autori di Pensieri Furtivi e Frammenti di Vita grazie a tutti